L'Agenzia regionale per l'ambiente della Regione Puglia è stata poco collaborativa e quanto ha sostenuto il neoassessore all'ambiente della città di Andria, Savino Losappio, chiamato ieri a rispondere nel corso del Consiglio Comunale ad una serie di interrogativi sul tema della qualità dell'aria nella città federiciana raccolti in una interrogazione proposta dalla consigliere di opposizione Donatella Fracchiolla. Le parole dell'assessore Losappio sono riferite in particolare alla redazione del Profilo della Salute affidato all'Associazione Onda Durto e sotto la supervisione del dottor Agostino Di Ciaula. Ma le parole di Losappio chiosano tutta la vicenda del rilevamento della qualità dell'aria da parte dell'ARPA che ad Andria avviene attraverso una centralina che è ora immersa nel cantiere dell'interamento della linea ferroviaria della Bari Nord e che ha portato Andria nella poco edificante classifica redatta dalle gambiette delle dieci città più inquinate d'Italia. I dati della qualità dell'aria sono stati poi cancellati da ARPA Puglia che ha di fatti dichiarato non attendibili quei numeri. L'ARPA si è mostrata poco collaborativa ed ha invietato il soggetto incaricato all'assessore del profilo ad acquisire i dati dal proprio sito. Tuttavia i dati indicati nel sito appagliano per un verso riferibili non espressamente alla città di Andria ma soltanto a una zona alla provincia. Per altro verso, con riferimento ad esempio della questione della qualità dell'aria mancano totalmente i dati del 2022 e anche quelli del 2023 ad oggi. Certamente non attendibili per valutare la qualità dell'aria dell'intero territorio andriese ma molto utili per capire quanto il cantiere dell'interamento della ferro-trianviaria stia liberando polveri sottili su tutto il percorso della futura linea ferroviaria. Da un capo all'altro della città, passando per scuole, abitazioni, negozi e anche di alimentari, il cantiere sparge polveri più o meno sottili su tutto il percorso. Un chiarimento sulla posizione dell'Agenzia regionale per l'ambiente pugliese potrà avvenire il 7 marzo quando, ha annunciato lo Sappio, ci sarà un confronto deviso tra l'amministrazione andriese e l'ARPA. Questo aspetto verrà chiarito nel corso di incontro che è stato chiesto dall'amministrazione all'ARPA il 7 marzo, dove si chiariranno sia l'aspetto della poca collaborazione nella stessura del profilo della salute e sia anche la questione dati che appare urgente. L'estensione della ZTL, la realizzazione della ciclopolitana domeniche ecologiche a partire d'aprile, azioni per scoraggiare l'uso di veicoli a motore termico sono i provvedimenti che l'amministrazione metterà in campo. Tutte azioni ovviamente abbastanza impopolari che spero trovino il supporto anche di tutto il Consiglio Comunale. Grazie a tutti. 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 Grazie.